Tornerà al suo posto con la lesione evidente causata dal danneggiamento con un martello la lapide della stella fatta costruire dai genitori del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990, nello stesso luogo di Contrada a Gasena, dove il magistrato venne assassinato da un commando di Stiddari. La procura della Repubblica del Grigento ha dissequestrato infatti i frammenti della scritta danneggiata nei mesi scorsi da ignoti. I frammenti in queste settimane, assieme alla Stere, sono stati oggetto di analisi da parte della Polizia Scientifica che assieme alla squadra mobile di Grigento conducono le indagini per cercare di identificare gli autori del danneggiamento. Una volta consegnati i reperti ai responsabili delle associazioni amici del giudice Rosario Angelo Livatino ed impegno civico antimafia per la legalità Tecnopolis, si procederà a ricostruire la scritta del nome del giudice assieme alla sottosezione di Grigento della Associazione Nazionale Magistrati. La ricollocazione avverrà il prossimo 21 settembre in coincidenza con il 27esimo anniversario dell'assassinio e in pieno svolgimento della settimana della legalità, organizzata a Canicatì dalle associazioni e dalla postulazione per la causa di canonizzazione Rosario Angelo Livatino. A fare la scoperta della lapide danneggiata era stato un operaio che stava passando e che ha subito segnalato il fatto. È accaduto a metà luglio. Secondo i primi accertamenti qualcuno con un oggetto pesante, una pietra o un martello ha spaccato in due il cerchio su cui c'era scritto a Rosario Livatino facendo saltare il nome del giudice. Il frammento staccato venne ritrovato qualche metro più avanti rispetto alla posizione della stela e nello stesso posto tra le campagne dove il giudice morì sotto una scarica di colpi d'arma da fuoco dopo essere sceso dalla sua fiesta rossa per fuggire dai sicari. Ma venne inseguito ed ucciso. Ed è questo un elemento che gli inquirenti non hanno sottovalutato nell'inchiesta perché chi ha compiuto questo gesto ignobile ha voluto probabilmente dare o mandare un segnale. Unanime la condanna delle autorità provinciali alla scoperta del danneggiamento della stela di Livatino. Il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e presidente di Caritas Italiana aveva affermato come cristiani e come cittadini ci sentiamo offesi e addolorati per il gesto compiuto a danno della stela e che ricorda il sacrificio di sangue che il giudice Livatino ha pagato nel 1990. L'offesa arrecata alla memoria di Livatino ci spinge a recuperare con maggiore forza l'impegno a vivere e a testimoniare la giustizia.